Sì, bene. Io avevamo in Consiglio Comunale fatto presente con una interpellanza congiunta per tutta l'opposizione che noi la Tares rappresenta un addizionale alla Tarso praticamente perché l'importo che il Comune deve pagare ad Anconambiente è pressoché identico a quello dell'anno scorso. Quindi per quanto riguarda il discorso sulla tassa per la raccolta dei rifiuti più o meno è i 3 milioni e 600 mila euro dell'anno scorso, forse qualcosina meno. Ma quello che è importante capire è quello che mette sopra il Comune perché il Comune fa una cosa molto semplice, mi servono i soldi dove li posso mettere? Su certe tasse non possono essere più aumentate come l'addizionale IRPEF, diciamo non abbiamo aumentato le tasse, sta al massimo che vuoi aumentare, più di quello non puoi fare per cui va a raschiare dove è possibile. Ma l'assessore Tini, che è l'assessore alla spending review, non ha capito che bastava contenere il 2% della spesa corrente per trovare i 550 mila euro che è la differenza tra la Tarso e la Tares. Poi io adesso sto preparando e poi ancora non l'ho scritta ma la presenterò a tutti i componenti dell'opposizione perché quello che abbiamo chiesto in Consiglio Comunale è che Ancona Ambiente è sotto ispezione. Quindi che significa questo? Che noi partecipiamo come Comune, siamo il secondo socio di Ancona Ambiente dopo il Comune di Ancona e quindi ci ritroviamo che questa società è sotto ispezione. Qui adesso l'assessore Arianello non ha saputo rispondere all'interpellanza che abbiamo letto il 30 di novembre perché ha detto lui ancora l'ispezione è in corso e quindi... ma io prendo spunto da questa cosa perché vorrò chiedere se l'opposizione è d'accordo con me, capire se i cittadini devono sottostare a questa regola. Nel senso, io ho un'azienda, no? Pago la Tares però i rifiuti me li smaltisco tutti per conto mio perché me li smaltisce una società privata che si chiama Alba Recuperi e quindi io pago il Comune ma il Comune non mi eroga questo servizio per il quale pago. Quindi significa che io mi devo organizzare. Ma questa cosa allora la possono fare tutti? Nel senso, il ristorante Cavallo Pazzo, adesso faccio un nome, che deve pagare 16.000 euro. Può organizzarsi e dire io rifiuto questo servizio dal Comune e me lo gestisco come mi pare? Perché puòarsi me costa 5.000 euro, 6.000 euro, la metà. Ossia questo sarà tecnicamente possibile perché se è tecnicamente possibile tante attività che sono state bastonate dalla Tares potrebbero organizzarsi per proprio conto e fare in modo che si sganciano da questo sistema che è un sistema che non permette nessuna competizione, nessuna concorrenza perché io quando voglio vendere cappe mi confronto con i concorrenti quindi devo offrire qualità, servizi, puntualità, simpatia magari, tutta una serie di cose. Qui noi invece questa ce la dobbiamo caricare sulle spalle così com'è e così come Ancona Ambiente ce la mette sul tavolo. 3.600.000 non c'è nessuno del Comune di Fabriano che va a vedere se quel costo che Ancona Ambiente ci mette può essere ridotto, migliorato, aggiustato. Chi è che fa la gestione? Mi piacerebbe, abbiamo chiesto di sapere quanto prende il Presidente Ancona Ambiente, il Consiglio di Amministrazione e tutte le spese che fanno che quasi quasi non dico che sono la metà dell'intera tassa ma poco ci manca. Tassa, tarso, parlo di Ancona Ambiente. Quindi questa cosa qui secondo me anche non l'ho detto perché la sto preparando, la sto verificando poi ne parlerò con tutti i componenti dell'opposizione. E chi l'ha detto che è obbligatoria questa cosa che un ortofrutta debba aderire per forza al sistema di raccolta? Non può essere messo in piedi un sistema di raccolta virtuoso, fatto bene che veramente separa i materiali, che li riutilizza, che li vende e sganciarsi da un sistema totalitario perché questo, io mi ricordo qui in questa sala quando abbiamo fatto la riunione della commissione ha detto, questo è quello che ci chiede Ancona Ambiente. E vabbè, capito, questo è quello che ti chiede Ancona Ambiente. E te glielo dai? E zitto? Perché te lo chiede Ancona Ambiente? Ci andremo a vedere dentro questi bilanci Ancona Ambiente che poi, questi anno scorso, ha perso più di 500 mila euro. Nel bilancio del 2012 Ancona Ambiente ha chiuso con oltre 509 mila euro di perdita. E chi gliele ripaga adesso le perdite? La Tarso? O la Tares? Forse la Tares? Allora, la gestione, qui è ora che i comuni vanno a vedere queste partecipate che ci hanno come sono gestite, come operano, perché ci impongono certi costi, perché io perché devo pagarle? E come se io vado a un cliente e dico, te mi devi dare 200 euro per questa cappa e quello mi dice, guarda, io ce l'ho a 150. Ah no, no, a me me ne dà 200 perché mi chiamo Urbano Urbani. E dove sta scritto? Io credo che dovremmo incominciare a pensare a un libero mercato, a qualcosa dove i cittadini si possono rivolgere. Perché anche, non so, io c'ho una macchina, posso andare a far pieno della benzina all'Acipe, come posso andare alla Erghe, come posso andare, perché per smaltire la monnezza della fabbrica mia devo andare solo al comune? Non lo so se è percorribile, lo dico perché ancora non l'ho approfondita da questa cosa. Ma se fosse possibile io sarebbe auspicabile organizzare un servizio di raccolta, io sulla fabbrica mia il comune mica me la porta via. Allora perché per me vale questo e non può valere per la pizzeria Lara, per esempio? Perché la pizzeria Lara deve per forza darla al comune e paga non so quanti mila euro? Ecco, questo tecnicamente è quello che mi piacerebbe, assieme a tutta l'opposizione, verificare se è un percorso percorribile, perché ragazzi il libero mercato, oppure adesso che è stato riformato il consiglio di amministrazione, vedere chi è il rappresentante del comune di Fabriano e che ci sia una persona con le palle che sa spulciare i numeri, perché c'è stato 800 mila euro dei costi generali là dentro, il presidente, il vicepresidente, il consiglio di amministrazione, le spese legali, le spese di pubblicità. Ora dai, ma se i soldi non ci stanno bisognerà pur tagliare da qualche parte, no? È inutile che continuiamo. Voglio dire i servizi a domanda, per carità bisogna darli, ma andiamo a vedere tra domanda e offerta, perché il teatro gentile c'è cosa? 273 mila euro all'anno e ne incassiamo 25 mila. La differenza che ci perdiamo è 250 mila euro, è metà dell'incremento della tares. Allora, il sindaco Sagramo l'ha detto all'oratorio della carità, la rassegna teatrale ce l'ha invidia tutti, ma non ce l'ha invidia nessuno perché non c'è bene nessuno, perché incassiamo solo 25 mila euro, se ci invidiava tutti, eravamo pienone tutte le volte, c'era da fare spettacoli a ripetizione e invece questo significa che non è così, no? Per cui io non dico che bisogna dargli al teatro, però andare a vedere tra quello che è l'offerta e quello che è la domanda di riequilibrarlo un pochino, perché anche gli impianti sportivi, Dio ce ne guardi e scampi e liberi di togliere lo sport, ma lo sport ci spendiamo per gli impianti sportivi 800 mila euro e ne incassiamo 300. Poi dopo spendiamo 10 mila euro per le lampade votive e ne incassiamo 185 mila euro, con una copertura del 1865%, mentre il teatro gentile la copertura del 9%, c'è qualcosa che non vanno, i morti Boretti non può parlare e quindi giù bastonate, ma secondo me è da rivedere, il 2% della revisione della spesa corrente avrebbe compensato l'incremento della TARES. Ricordiamoci che c'è stato un passaggio di Tini sulla stampa, per esempio sul resto del Carlino, dove Tini dice, no Tini a un certo momento ha detto era meglio se la ratizzavamo, ve lo ricordate? Se poteva fatta la ratizzazione. Esatto. Comunque Claudio la domanda che hai fatto, io non lo so, però può darsi pure che il singolo cittadino da solo non ce la possa fare, quello che viene multato, ma guarda che un gruppo di cittadini potrebbero fare anche un'azione forse, non lo so, congiunta contro il sindaco, una specie class action che si può fare, non lo so, penso che qualcosa di organizzazione, certo che se lasciamo il cittadino ognuno da solo, quello Boretti non ce la fa, ma io credo che qui l'opposizione non è che con stamattina finiamo, anzi mi pare che... ecco.